ciao ragazzi bentornati siamo qua con le mie bombe torniamo a parlare di carpini di piante che fanno fatica a ramificare ci sono un sacco di dubbi un sacco di sbagli sono la verità primo di pensiero secondo poi di coltivazione quindi che poi andiamo a rafforzare è tutta la teoria che di per sé è sbagliato cerchiamo di capire come mai certe piante fanno fatica a ramificare e come mai invece da me ramificano ok ora primo e si sono le piante che ramificano di meno per genetica quindi non possiamo aspettarci una ramificazione come un olmo fatta che ne so da un frassino da un giuggiolo no da piante che di base fanno rami molto lunghi e non fanno non faranno mai quei rami super sottili ramificati no che raddoppiano sempre molto stretto no quindi quelle piante non ramificano come come altre semplicemente per una questione genetica questo non significa però che non vi producono rami ok quindi sapete coltivare i rami li fanno anche quello ok saranno rami un po differenti però li fanno e li fanno e come anzi per quanto riguarda frassino una delle piante più forti la chiamano spacca sassi quindi immaginate voi faccio questo video più che altro anche per la questione carpino no perché ho notato che in giro c'è tanta gente che dice no ma il carpino ramifica male scarta i rami fatti in punta è impossibile fare l'apice sul carpino è questo un carpino ok sta facendo un sacco di rami il doppio dell'anno scorso addirittura primario qua sotto guardate che roba ok quindi se la pianta ha difficoltà a ramificare e vi scarta in punta vi scarta il ramo fatto non è perché è una pianta che che molle i rami c'è natura qual è la pianta che molle i rami nessuna piante in natura che mollano i rami sono semplicemente piante in difficoltà quindi piante che non hanno mangiato bene che non bevono abbastanza che hanno un substrato che fa schifo quindi sotto marcisce tutto c'è punto quando sotto ci sono problemi radicali ovviamente i rami poi vengono meno la pianta inizia a mollare quello che c'è sotto inizia a ingerire le foglie inizia a scartare problemi su problemi quindi non è un problema dovuto al carpino in sé no se non vi ramifica bene se vi scarta i rami in inverno semplicemente non avete ancora capito che la pianta deve mangiare veramente e che a un certo punto ha bisogno ancora più di nutrimento per andare a legnificare per poi mantenere su tutti i rami che ha fatto quando la pianta sta bene ha mangiato e pronta ha preso tutto quello che deve avere vi mantiene anche i rami e tiene su tutto 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 poi se fate potatura la cazzo di cane contando le gemme su rami che sono fini dopo lì un altro discorso perché state sbagliando puoi anche fare la potatura quindi seguite i consigli che vi do coltivate come coltivo io e semplicemente avrete una pianta che ramifica e tiene su tutto quello che c'è da tenere in inverno che ragazzi non esiste una pianta che che per genetica scarte i rami cosa vuol dire le piante che stanno bene i rami li fanno e li tengono in natura punto e basta ok a bomba ragazzi mi raccomando è iniziato agosto questa è la mia stasi vegetativa vi comunico che le spedizioni continuano anche nel periodo estivo quindi agosto io in ferie non vado mai ragazzi punto non chiedetemi più se e se per natale riuscirò se feragosto riuscirò se a pasqua io spedisco sempre quando il corriere mi dal ritiro io spedisco io continuo se non mi fermo mai le ferie non esistono ok semplicemente perché mi piace quello che sto facendo è perché chi si ferma ovviamente perde poi del terreno rispetto agli altri punto e basta se io sono arrivato dove sono semplicemente perché vado avanti non mi fermo punto e basta ciao ragazzi mi raccomando coltivate bene problemi non avrete mai ok meno pugnette più concime più acqua e state tranquilli per sempre ciao a tutti